ah buonasera professore come andiamo eh bene grazie voi come state eh poverito questo è il nostro spazio ormai bello pochi aria fresca bel libro da leggere e ne pochi caffè oi ne pochi caffè bel caffè devo dire la verità ma non buono e come perché è perché me lo sono fatto io con le mie mani e la mia mamma ogni volta che sto qua sto a casa e trova sempre un rifiuto e io quando non la sentire me lo devo fare da me il caffè e mi viene male e se sta sempre perché lui cosa la come si chiama esatto 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 la spira posto quindi faccio sul caffè mi metto qua al mio posto e qui scaccio i pensieri e la malinconia e sacchi è ma potete capire voi sarebbe bello potersi fare sempre una chiacchierata ma a proposito professore voi dove siete state che non mi vedo da un sacco di te ah ci capite siete stato in giro e la vita dei professori è così dei docenti è così abilitazione concorse quanto sarebbe bello poter cambiare una bella chiacchiera su un bel libro con una persona cara e come stiamo facendo in questo momento a proposito professore mo che mi ci fate pensare io vi ho mandato un messaggio qualche tempo fa vi ricordate e come no professore voi l'avete pure visualizzato e non vi ricordate noi siamo nell'epoca della spunta blu quindi anzi cosa non si scappa esatto brava allora vedete che ve lo ricordate niente professore non mi impressionate quel messaggio è un invito è un invito perché il prossimo 3 e 4 settembre 2016 un sabato e un weekend ci sarà un bel evento librario ad avversa si chiama book festival bar che sa fa e mo ve lo dico io ci sono degli scrittori ci sono dei bar e avremo modo di leggere un po di libri un po di romanzi con gli scrittori e con il pubblico e avremo anche modo di prenderci un bel caffè ovviamente ma i chichisti non vi preoccupate e soprattutto una bella chiacchiera su quelli che saranno i contenuti che vi dice vi piace è una bella cosa una bella cosa allora facciamo così io ve l'ho ricordato a voce ve lo ricorderò anche un'altra volta il 3 e il 4 settembre ci siamo insieme va bene allora mi raccomando state servito mi raccomando ue mamma va bene scusate professore c'è mia mamma che mi chiama allora vi saluto non vi scordate buonasera ue mamma sto bene buonasera ue mamma